Questo è il ponte Francis Cotquia a Baltimora, che crolla dopo l'impatto con una nave cargo. È successo attorno alle 6.30 del mattino, orario italiano, del 26 marzo. La nave cargo che ha causato il crollo ha prima perso potenza, guardate le luci, e poi ha cominciato a produrre fumo nero prima dell'impatto con uno dei piloni del ponte. Ma com'è possibile che un ponte crolli in questo modo? Un ponte in grado di sostenere il proprio peso, sommato a quello dei veicoli che lo attraversano, grazie alla propria struttura. I piloni e gli archi hanno un'importanza fondamentale. Se il numero di vincoli, di appoggi, di piloni, nel caso del Francis Cotquia è uguale al minimo richiesto per la stabilità, il ponte in gergo tecnico si chiama isostatico. Ovvero, in parole più semplici, un ponte isostatico sta in piedi solo quando tutti i pezzi che lo compongono stanno svolgendo il proprio ruolo. Basta la rimozione di un pezzo perché il ponte crolli. Questo tipo di ponti sono stati costruiti per decenni, perché per gli ingegneri è più facile fare calcoli riguardo la loro stabilità. In passato non c'erano gli strumenti che ci sono oggi. Quindi si tendeva a costruire strutture facilmente controllabili con calcoli umani. Oggi riusciamo a costruire anche ponti iperstatici, ovvero ponti in cui il numero di vincoli è maggiore rispetto al minimo richiesto per la stabilità. Cioè, un'altra volta, in parole semplici, un ponte iperstatico potrebbe rimanere in piedi anche dopo la rimozione di un pezzo. Abbiamo imparato a costruire questo tipo di ponti di recente, con l'avvento di nuovi metodi di calcolo numerico. E oggi vengono costruiti sia ponti iperstatici che isostatici, a seconda delle situazioni. I lavori del ponte Francis Scott Key, però, sono iniziati nel 1972.